Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vedremo insieme una maglia dell'NBA per la stagione 21-22, quella appena conclusa, del Dallas Mavericks, in edizione Statement, nella versione Swingman. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete tutti i dettagli, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo dopo! Per la stagione 2021-22, le maglie Statement Edition di tutte le 30 squadre dell'NBA presentano l'iconico design Jumpman. Colori e dettagli audaci alternati contraddistinguono la Statement Edition, una maglia che simboleggia la forza collettiva, lo spirito e la mentalità competitiva del roster. La maglia Jordan NBA Statement Edition Swingman dei Dallas Mavericks si ispira a ciò che indossano i professionisti. È realizzata in pregiato tessuto a doppia maglia, con una vestibilità comoda, che sta benissimo ai fan. Stampa del nome della squadra e numero 77 sul davanti. Nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Cosa ne pensate della maglia? Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Non il massimo, ma sicuramente una bella maglia. Elegante, da portare anche tutti i giorni per uscire con gli amici. bella questa rifinitura laterale. La maglia comunque è perfetta in ogni dettaglio e al costo che vedete qui sopra è solamente un appare. La spedizione è stata molto veloce. In questo caso è arrivata in 18 giorni. Comunque in generale questo sito è sempre abbastanza veloce. Vi ricordo che in descrizione, qui in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Per oggi è tutto. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Swingman.